Conforme a chi, conforme a cosa, conforme a quale strana cosa, va peggio, va meglio, non so dire, non lo so. La prima volta fa sempre male, la prima volta ti fa fremare, sei tu, sei tu, sei tu, ti guarda di più, sei tu, sei tu, ti guarda di più. La prima volta ti fa fremare, la prima volta ti fa fremare, sei tu, sei tu, sei tu, ti guarda di più, sei tu, sei tu, ti guarda di più. Sei tu, ti guarda di più. In questo presente che capire non sai, l'ultima volta non arriva mai, l'ultima volta non arriva mai. In questo presente che capire non sai, sei tu, sei tu, sei tu, ti guarda di più. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, ti guarda di più. Conforme a chi, conforme a cosa, conforme a quale strana cosa. Conforme a chi, conforme a chi, conforme a cosa, conforme a quale strana cosa. Conforme a chi, conforme a quale strana cosa. Conforme a chi, conforme a quale strana cosa. E la prima volta ti fa fremare, l'ultima volta non arriva mai, l'ultima volta non arriva mai. Sei tu, sei tu, sei tu che non dà di più In questo modo sento che non ti ne lo sai In questo modo non arriva mai In questo modo sento che non ti ne lo sai In questo modo sento che non ti ne lo sai In questo modo sento che non ti ne lo sai